Raspanti di futuro in appoggio a Salvetti. Perché un elettore dovrebbe votare voi invece del PD? Cos'è che vi differenzia? Col Partito Democratico ci sono delle differenze che abbiamo chiaramente misurato nel corso di questi anni, dal 2014, 2013, 2014 in poi, ma ci sono anche diversi punti di contatto che sono stati costruiti attraverso un lavoro paziente di dialogo e di confronto che ha fatto sì che si potesse arrivare su una base programmatica condivisa in discontinuità con il passato a individuare la possibilità di un percorso comune e l'individuazione di una candidatura comune. Noi ci siamo sempre caratterizzati per un forte accento sui diritti, per un forte contrasto nei confronti delle politiche seguritarie anche quando queste sono sul piano nazionale state vesse in atto per esempio da ministri del PD, penso per esempio a Minniti. Abbiamo avuto diverse volte in passato occasione di scontrarci o di confrontarci anche in modo critico con il PD su tutta una serie di argomenti che riguardano soprattutto quelli che sono stati in questi anni degli orientamenti nazionali. Mi sembra che il PD abbia avviato sia sul piano nazionale sia sul territorio un percorso di cambiamento significativo credo che ne abbia dato testimonianza sia sul piano dei contenuti sia sul piano degli atteggiamenti e credo che oggi queste differenze possano essere un valore aggiunto all'interno di una coalizione che ha un obiettivo comune che è quello di dare a questa città un progetto politico che sia effettivamente in grado di rappresentare un'alternativa al governo, al mal governo di chi in questo momento siede alla potenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e anche di chi in questi anni ha governato, mal amministrato questa città. Grazie Grazie Grazie